Superati i pregiudizi iniziali, la realtà del McDonald's è cresciuta offrendo qualità ai propri clienti. I polli sono levati in molise, distribuiti anche agli altri ristoranti italiani e soprattutto condizioni lavorative ottimali ai propri dipendenti. Il progetto Benvenuti Studenti, nato dalla firma di un protocollo di intesa con il MIUR, mira proprio a creare un percorso formativo integrato che si focalizza su alcuni aspetti che permetteranno agli studenti dell'alberghiero di toccare con mano quanto studiato sui banchi scolastici. In questo primo settore abbiamo ospitato sette ragazzi, ogni gruppo era composto dalle due barra tre persone. Ogni ragazzo è stato seguito da un tutor, un tutor debitamente formato che seguiva passo passo i ragazzi durante il percorso formativo. Noi investiamo molto in questo settore e ci auguriamo che vengano altri ragazzi sempre disponibili e attenti come lo sono stati questi ragazzi. L'obiettivo di Benvenuti Studenti è l'acquisizione e il consolidamento delle cosiddette soft skills, competenze trasversali e relazionali quali la capacità di comunicazione, l'attitudine al lavoro in team, le relazioni interpersonali e il problem solving capacità fondamentale per l'inserimento in un futuro contesto lavorativo. È stata sicuramente una possibilità per accrescere le proprie competenze, per confrontarsi con una realtà ristorativa che ha una sua specificità, che quindi chiaramente essendo un fast food è un modo diverso di lavorare rispetto al ristorante tradizionale. Quindi è bene che i ragazzi che si preparano a questo tipo di indirizzo, a questo tipo di professionalità, sperimentino le varie tipologie e quindi per loro è stata un'occasione di questo tipo. È stato un racconto positivo, nel senso che tutti i ragazzi che sono venuti qui hanno sperimentato qualcosa di diverso da quello che appare poi all'esterno, quello che appunto è definito McDonald's, un po' anche demonificato come tipologia ristorativa. Soprattutto hanno sottolineato il rispetto per le regole che viene insegnato qui, sia per le regole comportamentali che di sicurezza sul lavoro, sia igieniche. Qui sono molto molto sottolineate, ci tengono tantissimo. A me è piaciuta in modo speciale questa esperienza perché siamo stati sempre con i tutor che ci aiutavano in tutto quello che dovevamo fare. Ci facevano prima loro come si doveva fare il tutto. Nelle norme e nella sicurezza, come si diceva prima. L'esperienza che il McDonald's sta offrendo ai ragazzi dell'alberghiero è fondamentale. Insegna loro l'importanza del lavoro di squadra in un'epoca in cui il modello Masterchef, improntato al personalismo e alla competizione, sembra erroneamente l'unico vincente.